Per quello che riguarda la nostra gara è stato quello di renderla accessibile a tutti. Cioè, abbiamo fatto pagare un biglietto fittizio di 5 euro, ma perché volevo che ci fosse più gente possibile e ci fosse più pubblico possibile che si potesse godere o addirittura, non sapendo cosa andava a vedere, potesse pagare una cifra irrisoria, ma per andare a vedere qualcosa di nuovo che magari gli sarebbe piaciuto e che magari in futuro magari lui diventerà un atleta, perché comunque se fai un biglietto a 30, 40, 50 euro, il ragazzo non ci viene a vederla, perché come se gli permette 50 euro per venire a vedere una gara? La cosa bella che abbiamo voluto fare è stata proprio questa, cioè renderla accessibile a tutti. Abbiamo riempito il palazzetto. È vero. Posso dire che da parte mia io sono una persona fondamentalmente molto timida, cosa che non si direbbe, ma sul palco metto una maschera. Quei 5 minuti, come abbiamo detto fino adesso, è show. Quindi quei 5 minuti non sei te stesso, dai il meglio di te. Poi dopo torno nei miei abiti larghi, nei miei tutoni, quelle cose lì, negli occhiali. Però realmente in quel momento lì ti devi sentire bella, ti devi sentire bello, devi essere in quel momento la cosa più bella che esiste al mondo e devi farlo passare così. Io mi ricordo che la mia prima routine a 17 anni, ho preso la routine di Cutler, quando la portavo all'Olimpia, che posò su Dre Bocelli con te Pantirol, e presi posa per posa, c'era ancora il registratore, quello del VHS, e studiai la routine passo dopo passo da Cutler. Cioè adesso questa cosa qui si è persa, giorno dopo giorno riprovala, prendi i tempi. Questa cosa qui al giorno d'oggi si è persa un sacco. Buonasera a tutti e bentornati alle nostre live di gare bodybuilding. Questa sera causa un imprevisto dell'ultimo minuto, non avremo con noi Matteo Picchi, vi saluto tutti quanti, ma è stato possibile appunto per lui esserci questa sera. Condurrò io un po' le chiacchiere con due amici, Dario e Matteo, Aquaman. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Diciamo che questa sera toccheremo alcuni aspetti, quella che può essere una gara, la preparazione, l'organizzazione, anche approfondiremo qualcosina riguardo il posing, le routine e quello che è l'aspetto più scenografico di un atleta che sale sul palco. Ecco, beh innanzitutto lascerei un attimino la parola anche a Matteo e a Dele per presentarsi e dirci un attimino anche quello di bello. Ciao Ale, ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Io chiedo scusa intanto, ho un po' di abbassamento di voce, quindi spero si senta bene lo stesso. E per cavalleria devi iniziare tu. Ah, devo cominciare io? Ah, perfetto. Se no dico anche se io rubo sempre la scena, non va bene. È vero. Diciamo che, spiego velocemente, io ho cominciato a fare bodybuilding una decina di anni fa. È stato un amore a prima vista, nel senso che dopo aver fatto tanti sport a livello agonistico mi ero un po' stancata, diciamo, della superficialità che c'era in alcuni ambiti e quindi ho deciso di dedicarmi un pochino più a me stessa. Da lì ho conosciuto lui in palestra e purtroppo, diciamo, ci siamo un po' influenzate a vicenda. Lui aveva già gareggiato in passato, io non avevo mai preso in considerazione questa cosa. Nasce una sfida fra me e lui e quindi io ho riportato lui sul palco e lui ha portato me per la prima volta sul palco. E quindi da lì, diciamo, che da una passione che comunque è cresciuta insieme, alla fine siamo cresciuti insieme anche noi, progetti che alla fine pian pianino stiamo realizzando giorno dopo giorno. Diciamo che poi durante tutta la lunga carriera che comunque stai continuando a fare d'atleta, sei diventata anche preparatrice e... per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Matteo e in arte Aquaman, perché comunque quando è uscito il film di Aquaman, che eravamo al cinema a vederlo, lei mi ha detto ma sai che ci assomigli? E io ho detto beh, vabbè, allora lo portiamo sul palco. È stata la fine. E da lì è iniziata questa trasformazione. Prima avevo i capelli cortissimi, sì, a chiodo, quel tipo... Sembrava un marins, cioè... Senza barba, senza niente, è vero, avevo solo un pizzettino in larichina qui. Mi vede adesso, fa fatica a volte, il sorriso è sempre quello, però fa fatica. E la testa è sempre quella. E da lì dopo, quando comunque ho riportato Adele sul palco e ho risbocciato l'amore per i bodybuilding, l'anno dopo ho iniziato a preparare le prime gare, è iniziata la trasformazione con... facendo crescere i capelli, i tatuaggi e quant'altro di Jason e poi dopo adesso ci divertiamo anche a fare il cosplay, perché comunque quando andiamo a fare San Marino Comics, eccetera, lei si veste da mera, che soffre di caldo tremendamente perché è completamente vestita e invece io sono a torso nudo, quindi me la godo di più. Questa d'agosto. Esatto, in pieno agosto. Quella bella vita e lei soffre un po' alle piene del tempo. Esatto, e lei soffre un po' al consumo. Ma come sempre, come ogni brava moglie, ci scherzo. E' partita così, diciamo, l'idea di questo personaggio che poi dopo ha caratterizzato proprio tutta quella che è la tua presentazione sul palco, giusto? Infatti è partito tutto da lì, è partito la preparazione del posing, la preparazione comunque della routine sulla canzone comunque di Aquaman e magari mixate in maniera diversa, però sì, è nato tutto da lì e comunque al cinema ho visto il film a tre serie di fila e io penso un 500 volte quando facevo cardio in preparazione e quindi sì, posso fare le battute al posto degli attori. avrei proprio anche studiato quelle che potevano essere movimenti, caratteristiche, particolarità del personaggio. Alcune movenze che comunque portava, sì, che portava Jason nel film, sì, avrei voluto portarne di più anche se erano un po' troppo difficili per impostare la routine in base al posing anche perché comunque la routine ricordiamo che sì, è sulla musica ma non mi posso mettere a ballare Michael Jackson, ma devo comunque far vedere la muscolatura, quindi sul posing posso portare magari il passo o la pose in maniera più plastica, però devo comunque far vedere la posa o le pose che comunque ci richiedono la giuria o i giudici, quindi la difficoltà è proprio lì, mixare il posing alla musica. Sappiamo tutti l'importanza di quello che è l'aspetto coreografico di una routine perché comunque deve essere fatta con un posing ben preciso per mostrare appunto quelli che sono i muscoli, ma secondo te quali sono gli elementi chiave che ti hanno aiutato a creare quella che è stata la tua routine e quello che ti permette di creare le routine anche per i tuoi atleti perché tu sei anche un preparatore quindi segui anche tutta la parte del posing con i tuoi atleti. Quali sono gli elementi chiavi su cui ti basi per poi creare una routine e caratterizzarla su quello che è l'atleta o su quello che può essere la federazione o le specifiche della categoria dell'atleta stesso? Certo, certo, perché poi tra classic e bodybuilding cambia molto, quindi alcune pose vanno valorizzate in un certo modo, altre in bodybuilding ad esempio pose di classic non ci sono. I punti chiave sono che la mia non vergogna di nulla e la mia empatia comunque con il prossimo perché se tu mi metti in un deserto inizia a chiacchierare anche con i sassolini di sabbia. Quindi diciamo che questa parte empatica mia facilita molto il rapporto con l'atleta, il rapporto e soprattutto il rapporto di fiducia che ci deve essere tra preparatore. L'aspetto comunque del posing va molto in base alle caratteristiche dell'atleta, cioè qualora magari deve valorizzare una pose piuttosto che l'altra perché comunque in quella posa lì è più armonico, è più fluido, riesce a prenderla meglio, bisogna impostarla su di lui in quel modo lì e farcelo arrivare in quella posa lì, perché comunque non puoi fargli fare tutto il posing o comunque chiaro nelle otto pose obbligatorie anche lì vanno modificate in base alle caratteristiche dell'atleta. Mettiamo che uno abbia il punto vita largo, non gli faccio fare una front diretta, dritta con le gambe dritte, ma leggermente spostato in modo tale che il bacino risulti leggermente più piccolo. Cioè sono vari dettagli che comunque vanno curati in base alle caratteristiche dell'atleta. Sì, diciamo che non c'è mai un posing o una routine uguale per un altro, questo sia nel mondo maschile che nel mondo femminile. Purtroppo nessuno di noi nasce perfetto, magari fosse così, quindi logicamente dobbiamo essere bravi noi diciamo al di fuori a vedere quali sono le peculiarità di una persona e quindi valorizzarla al massimo. In una routine logicamente, adesso prendo la tua parola, ascoltiamo quelle che sono già le richieste dell'atleta, quindi comunque sono loro a portare la musica, non siamo noi a dire porta questa musica e quant'altro, quindi è una cosa che loro sentono già loro, che gli piace cantare in macchina, che è una cosa che deve essere già dentro la testa e da lì si va a creare poi una coreografia, logicamente basata sulle pose, comunque obbligatorie e anche non a volte perché magari c'è un passo di danza in mezzo, effettivamente durante la routine, per far sì che diciamo quello spettacolo sia enfatizzato al massimo, quindi quello show risulti gradevole, esatto, rispetto ad alcune cose che purtroppo si vedono, che magari non vengono studiate molto bene, anche perché essendo come abbiamo detto uno show, deve essere bello, deve essere studiato e comunque deve dare un buon impatto. Si è persa tanto questo aspetto qua, da quando abbiamo iniziato a gareggiare, o da quando ho iniziato a gareggiare, io e ti parlo, la prima gara l'ho fatta a 17 anni, ne ho 37, quindi 20 anni fa, il posing e la routine, e io mi ricordo che la mia prima routine a 17 anni, ho preso la routine di Cutler, quando la portò all'Olimpia che posò su Andrea Bocelli, con te partirò, e presi, posa per posa, c'era ancora il registratore, quello del VHS, e studiai la routine passo dopo passo da Cutler, cioè adesso questa cosa qui, giorno dopo giorno, riprovala, prendi i tempi, questa cosa qui al giorno d'oggi si è persa un sacco, cioè non c'è più il mettiti a provare, siamo noi a impostare la routine agli altri ragazzi, ma con piacere, perché comunque anche parte del nostro lavoro e lo facciamo con amore, ma questa determinazione nei ragazzi di oggi si è persa tanto. Diciamo c'è un po' il demandare, c'è un po' il... Fallo tu per me. Esatto, come si fa? Come facciamo ad arrivare lì? Come facciamo ad andare in gara? Ragazzi, è stata persa un pochino quella che è l'iniziativa dell'atleta stesso, nel crearsi qualcosa di personalizzato su di lui, con la sua esperienza. Ad esempio, visto che mi hai citato appunto che sono vent'anni appunto che gareggi, bazzichi il mondo delle gare e vi dicendo, come hai visto cambiare l'importanza del posing nel corso degli anni? Come si è evoluto il posing in questi vent'anni che hai visto il cambiamento? Perché le federazioni hanno dei criteri. Tu come le vedi secondo te e che cosa c'è in questo momento? Allora, negli anni è cambiato veramente un sacco. Prima si studiava tanto, prima c'era l'atleta in sé singolo che studiava tanto. Studiava le pose, io mi ricordo che comunque mi mettevo lo specchio, provavo, riprovavo, riprovavo e cercavo di capire io come risultavo meglio in alcune cose. Questo aspetto, come ti dicevo prima, si è perso davvero tanto nel lungo andare del tempo. Ovviamente poi da federazione a federazione cambia un sacco, perché poi c'è molta libertà anche adesso nelle pose. Cioè alcune federazioni danno delle impostazioni, ad esempio, ti faccio un esempio, IMBb e Wabba hanno delle basi di posing completamente diverse dalla Pro League, ma abbiamo visto ragazzi e ragazze adattare il posing della Pro League a IMBb, Wabba e a tutte le altre federazioni. Invece da regolamento loro hanno un posing totalmente diverso, ma questo è lasciato andare, c'è troppa libertà ad oggi, rispetto a quelle che comunque è il regolamento della federazione. Diciamo che purtroppo adesso è tutto molto, allora purtroppo è brutto da dire, ma come ogni sport, diciamo ogni sport ha il suo tempo ed è diventa una moda. Diciamo che anche questo sport, se prima era un sacrificio, adesso è un po' una moda. Lo fa l'amico, lo faccio anch'io. Magari anche senza cognizione di causa, nel senso non sanno cosa c'è effettivamente dietro una gara, cioè ha una preparazione. Magari uno ha un bel fisico, magari naturalmente è attratto dalla genetica, va un po' in palestra e si butta, giustamente, ma anche per divertimento. Però tra il buttarsi e mettersi di impegno, soprattutto ad esempio per un builder che comunque ha una routine, ha una serie di cose, artistiche, fisiche. Esatto, da guardare. Lo fanno purtroppo con molta semplicità e quindi scema proprio quell'aspetto del bello sul palco, quindi dell'attenzione del dettaglio, della cura del dettaglio. Sì, poi comunque anche della felicità di quando si arrivava sul palco, cioè tu facevi un periodo di sacrifici, perché ragazzi, volente o non volente, si fanno dei sacrifici per arrivare sul palco, perché quello sono. E arrivavi gioioso di quel giorno perché arrivava la gara e magari c'era il palco, c'era il fatto che comunque dopo magari si andava a mangiare, c'erano tanti aspetti. Adesso purtroppo è un po' tutto superficiale. Adesso c'è la vincita. I social hanno rovinato poi tutto, secondo me, anche se è ovviamente la fonte primaria del nostro lavoro, ma hanno rovinato tutto quello aspetto, ci danno tutto troppo disponibile. Quindi se io ho bisogno di fare un esercizio, prima magari lo chiedevo a quello grosso della palestra, ok? Adesso vado su internet, vado a vedere il primo che lo fa a modo suo e ha dato l'esercizio a me. Ma ciò non vuol dire che l'esercizio fatto come lo fa lui su di te funzioni, perché ovviamente tu hai una biomeccanica completamente diversa. E la stessa cosa vale per il posing, cioè tu non puoi adattare il posing di uno che vedi su YouTube, su Instagram, su Facebook, a te. Perché comunque tu hai delle caratteristiche genetiche, strutturali, completamente diverse. E questo oggi invece succede. E la superficialità con la quale un atleta viene da te, un ragazzo viene da te, ti dice, ah io vorrei gareggiare che non ha mai visto un peso in vita sua. O magari si allena con gli amici forfettariamente e dice, voglio andare in gara. Entro un anno, cioè, tu gli dici, figlio mio, quello che ha fatto il miracolo è già morto, è risorto e io purtroppo non li faccio. Dimmi una cosa invece, rispetto sempre a quella che è stata la tua esperienza nel corso degli anni. Come è cambiato, diciamo, il peso che danno le federazioni a un posing? Cioè, una volta quanto lo valutavano e quanto lo valutano adesso in proporzione a quella che può essere una condizione fisica, ma non solo, diciamo, nel tuo caso da bodybuilder, ma anche per quello che può essere magari la bikini come Adele. Quanto valutano adesso le federazioni un posing fatto bene, curato e vi dicendo, rispetto a quello che era negli anni discorsi. Dipende anche molto da federazione a federazione. Allora, diciamo che ci sono tante federazioni italiane e non, magari alcune sono un po' più piccoline, le altre sono nomi altisonanti e comunque più conosciuti. Purtroppo in alcune federazioni non viene tanto valutato il posing, ma diciamo neanche un 50 e 50, perché a volte magari una non sa posare, ha un bellissimo fisico, va avanti lo stesso. Magari l'altra persona che ha di fianco è leggermente più indietro, muscolalmente, ma fa un posing meraviglioso e non viene considerata. Questa è una cosa che purtroppo è un grave errore, perché non solo perché è una bella struttura fisica, ma un atleta deve essere completo. È come se uno va a giocare a tennis senza una racchetta, che gioca con la mano. C'è un pezzo che manca. Quindi credo che nulla togliere da una bellissima atleta fisica, atleta maschio o femmina, però purtroppo ci deve essere una completezza anche in quello. E in alcune federazioni è molto, molto tenuto di considerazione. Quindi se non sai posare, purché sei bellissima, manca a quel punto, mi dispiace. E sei rimandata a settembre, no? Diciamo non sarai prima, ma sarai seconda, perché comunque ti meriti la vittoria, ma non il top di gamma. Ecco, mettiamola così. Altre federazioni lasciano molto, molto correre questa cosa qua. E anche al giorno d'oggi, rispetto a tanto tempo fa, è cambiato anche come sai venderti sul palco. Cioè, se tu hai, permettimi il termine, la faccia da culo sul palco, mi perdono, me però culo non è una parolaccia, ma la faccia tosta di... E essere un po' sfacciato, essere un po' sfacciato, sì. E quello, come ti sai vendere sul palco, cambia davvero, davvero tanto, ma addirittura il risultato sul palco. Cioè, il risultato della giuria, di come tu ti sai vendere sul palco, cambia. C'è un abisso proprio, di differenza, confronto a uno magari timido, che sa posare in maniera scolastica, ma che non è... Impattante. Esatto, non è d'impatto sul palco, è incredibile. Sì, purtroppo, sì, scusami, scusami. Scusami, ti faccio un esempio di un nostro caro amico Morosini, Cristian, lui secondo me è uno degli atleti, a parte strutturalmente molto bello, ma che si sa vendere in maniera esagerata sul palco, e ragazzi è... Proprio showman. Sì, è proprio un showman. E poi magari può anche sbagliare, per carità, oppure non arrivare super, iper in condizione, ma quello lascia veramente a bocca aperta tante persone, quindi... Perché cambia tanto. Sì, è molto espressivo, è molto fisico, cioè proprio si vede che ci mette l'anima in quello che fa. Il carisma di un atleta, la presenza... Il carisma, assolutamente, bravo. Deve essere proprio... Ma quello che non deve, scusami se ti interrompo, non deve sfociare nella maleducazione. Bravo. Ecco, ecco, quello è un punto che io non posso sopportare. La prima cosa che dico ai miei atleti, mi raccomando, dovete portare rispetto a tutti gli avversari, tutti quanti. Stringete la mano, vi fate i complimenti, non mi interessa, non voglio cucci, non voglio spintoni, non voglio niente. All'interno del team tutti devono essere fratelli e tutti devono essere sorelle. Tutti si devono dare una mano e tutti vanno via alla fine della gara. Cioè, non... Chiaro che può succedere magari l'urgenza, però di norma tutto il team va via tutto insieme, come arriva tutto insieme, perché comunque devo riuscire a gestire tutti gli atleti. E un aspetto fondamentale è proprio questo, cioè quello che vedo tante volte è la maleducazione che gli atleti hanno sul palco, perché si credono, non lo so, superiori, si credono già arrivati, si credono di aver fatto qualche gara in più e quindi loro sono il top, non lo so, ma la maleducazione è una cosa che proprio non riesco a tolerare. Brutta, è antisportiva. Ed è una linea sottile sull'argomento che trattavamo, molto sottile. Purtroppo sì, cioè non c'è, manca tanto anche questo rispetto, posso dire che da parte mia io sono una persona fondamentalmente molto timida, cosa che non si direbbe, ma sul palco metto una maschera, quei cinque minuti, come abbiamo detto fino adesso, è show, quindi quei cinque minuti non sei te stesso, dai il meglio di te, poi dopo torno nei miei abiti larghi, nei miei tutoni, quelle cose lì, negli occhiali, però realmente in quel momento lì ti devi sentire bella, ti devi sentire bello, devi essere in quel momento la cosa più bella che esiste al mondo e devi farlo passare così, a un'altra persona. E soprattutto convincere l'atleta che è così, perché la parte più difficile è che l'atleta o donna o uomo che sia, non fa differenza vicino alla gara, non si vede mai. Cioè tu porti un atleta in gara, scannato, perfetto, arriva primo, vince l'assoluto e ti dice Matte, porca miseria, potevamo arrivare meglio. Di così? È dura, eh? Gli atleti sono così, cercano sempre di spingersi oltre. Ma tagliami una curiosità, ritornando un po' al discorso del posing, ma ad esempio voi quanto tempo dedicate al posing, rispettivamente sia tu che Adele, nelle vostre routine, soprattutto tu che hai anche un personaggio da emulare, da cui prendere spunto, quanto tempo dedichi, che cosa fai come preparazione nel posing, sia magari nei mesi prima e anche nel pre-gara? Per quanto riguarda l'ambito bodybuilding, secondo me il posing va curato sempre, perché non si impara mai, soprattutto perché il fisico si evolve sempre. Quindi ogni preparazione è a sé e ogni posing deve essere fissato sulla preparazione che porti in quella gara. Andrebbe provato? Io quando ero atleta cercavo di provarlo tutti i giorni, fino all'allenamento, di mettermi lì a comunque posare, a tirare, a vedere come una gamba magari riuscivo a definire, perché purtroppo il mio difetto molto grosso è di avere poca fibra muscolare nei quadricipiti e nel gluteo e quindi fanno fatica a tirarsi e arrivare molto tagliati. Quindi dovevo cercare le scamotage per poter enfatizzare questi due aspetti su di me, che purtroppo erano un po' più carecchi. Quindi provare e riprovare sempre pose diverse, piede magari posizionate in un modo o nell'altro, fino ad arrivare alla routine, che ovviamente quella, ti ho detto prima, quando avevo 17 anni, la provavo tipo 3-4 volte al giorno periodicamente, mi è sempre rimasto quella, quella passione, quell'ardore comunque quando c'è una routine da preparare, quando c'è l'ansia della gara, quando c'è lo stress di arrivare sul palco e di far bene. Se mi rimetti sul palco domani ho lo stesso stress che avevo la prima gara a 17 anni. Poi fatto il primo palco si va avanti, ma al primo palco lo stress è quello. Perché è vero, no? E io, ma no, e ovviamente vivi di emozioni anche tu. Eh sì, e poi soprattutto mettendoci tanto amore in quello che comunque è la nostra passione, non riuscirei a fare con nient'altro. Cioè, proprio davvero, anche vedere solo la gioia dei nostri atleti quando comunque sono sul palco e si vedono in un determinato modo, quella è la nostra vittoria. Al di là del risultato che mi porta a casa l'atleta, quello che gli diciamo sempre, il risultato a noi non ci interessa. Il risultato è che tu arrivi felice e ti vedi come non ti sei mai visto sul palco. Quello è il risultato principale, la strada che hai fatto per arrivare a quel giorno. Cioè, il risultato di per sé non mi frega niente perché tanto qualcuno di più ci sarà sempre. Sì, la vittoria è la loro, a noi importa il sorriso e quello che si portano dentro di quella giornata. Mentre il posing da bikini cambia. Anche perché quest'anno forse ci sarà una novità. No, allora, io personalmente diciamo che come con lui, come fa lui, bene o male, a ogni fine allenamento qualche posa la fai sempre. Perché comunque diciamo che le pose maschine sono più muscolari, quindi non dico più facili da tenere, però sono più normali da prendere. Ecco, le pose da bikini sono un pochino più difficili. Nel senso che sono pose completamente innaturali, per i tacchi soprattutto. E poi sono pose anche per la schiena molto innaturali. Perché tenere il busto da una parte e la schiena girata dall'altra. Con il bluto in alto. Eh sì, diciamo che... Ma della natura non ci andiamo così. No, a fare la spesa non ci andiamo così. Quindi ogni fine allenamento è normale farlo. fare un pochino di posing, anche soltanto due o tre pose, perché magari non si ha tempo, si è anche un po' stanchi, ci stanca. Perché il posing porta via veramente tanta energia. Poi soprattutto diciamo che sicuramente quando cominciano a mancare un paio di mesi alla gara, l'appuntamento fisso nel weekend, cioè un'ora di posing, quello non te lo toglie nessuno, arrivi veramente alla fine di quell'ora che sei più martoriato di una settimana di allenamento. perché sei distrutto, hai male ovunque. Però diciamo che purtroppo sono cose che bisogna comunque sempre provare. Sì, perché poi un fattore determinante sul palco è il tremore. Cioè, si vede un atleta preparato nel posing dal tremore che ha sul palco nelle pose. È chiaro che magari uno può sbagliare la preparazione, per carità del signore. Certo. E arrivare sfinito, quindi magari il tremore ci dà uno scompenso elettrolitico. Il caldo, può essere tanti fattori. Ma il fattore determinante è che non ha trovato il pose. Cioè, il tremore che si ha nel posare. E l'insicurezza proprio nel posare. Cioè, non puoi essere dubbioso nella posa che fai o tenere la posa qualche seconda e poi sei già stanco. Vuol dire che non l'hai provato. C'è da dire anche che adesso noi parliamo così, un po' per condizioni di causa, non che non abbiamo mai sbagliato qualcosa sul palco. Anzi, assolutamente. Più di una volta abbiamo sbagliato. Però, diciamo che il fatto di aver provato tante volte è sbagliato ma non è fatto vedere che è sbagliato. Cioè, magari sbagli una posa, ma la prendi in un modo che non sembra che è sbagliato. E vai avanti, proprio con un sorrisone. Dici, tanto non se ne ha accorto nessuno. In inglese c'è una linea che non la dica io. perché io e l'inglese hanno due cose completamente diverse, ma il gioco continua, no? Sì, the show must go. Bravissimo. Adele, mi ha fatto venire una curiosità. Un aneddoto, un qualcosa, una disavventura che ti è successa da bikini e che dici una. Una in particolare che è rimasta nella storia. È il tacco che si è impiantato. Quella è stata, credo, forse la... Allora, quella fu l'esperienza più traumatica della mia vita perché cambiai federazione proprio quella volta. E quindi... In ogni palco era. Esatto. Io è emozionata perché comunque era una federazione insonante, con un nome e quant'altro. E ho detto, dai, dai, carichi, carichi, carichi. Arrivo sul palco e c'era un buco fra due assi di legno e logicamente il mio tacco, mentre giro, si pianta proprio lì. Quindi io ero di schiena alla giuria e non sapevo come uscirne da tutto ciò. Quindi ho detto, o tolgo la scarpa e quindi continuo senza scarpa. Poi dopo un po', diciamo... Scastrato. Di tirotti è venuto via l'assi di legno, ma credo che qua, sicura lì... Può essere anche magari la presenza di troppo olio su per le scale e che magari le scale ovviamente magari non sono con del belluto, comunque con della moquette. E quindi, purtroppo, si scivola lì. Sì, anche lì, quante ragazze cadono. E questa è stata quella più... Scusa se ti interrompo, ma questa è stata quella più tranquilla perché è capitato anche che il costume si rompesse. Cioè, quindi, tanto è che è un costume talmente piccolo che quando si rompe un gancio sei praticamente nudo. Quindi dici, allora, o mi faccio forza e vado avanti nudo e non è carino o in qualche modo camuffo. Quindi c'è stata una volta che per un gancetto rotto, diciamo, il palco è finito con una mano che reggeva bellamente sul fianco, però lo slip, e da lì non si muoveva più la mano e intanto tu continui a fare... sempre come una chalance. Anche qui c'è, come diceva prima, gli uomini sono avvantaggiati per certi aspetti perché non hanno tutti gli accessori che hanno le bikini, le figure, via dicendo. la scomodità. così determinante da compromettere quello che comunque poteva essere una routine di cose. Un fattore invece che purtroppo non è stato molto carino da parte di una federazione... No, vabbè, ma quelle sono cose... Vabbè, fu un evento un po'... Lasciamo correre, lasciamo... La federazione... No, perché ho il terrore che magari qualcuno si è inascolto, quindi... No, per carità del signore, ma non vorrei tirar fuori la polverota. No, non gli italiani. Volevamo fare solo una sorpresa, una cosa carina per una festività ricorrente dove comunque ci si trucca, eccetera. È stata penalizzata molto lei su quel palco lì e quello è stato un fattore determinante che ha determinato anche la sua gara. Ha determinato tanto lo stress suo perché ovviamente aveva mollato un attimino di carico di tutto quello che c'era stato dietro e invece di essere una cosa carina si è trasformata in qualcosa di un puttiferio. Ecco. Poco simpatico. Un'altra domanda. Non è proprio una domanda, è una previsione. Cioè, secondo voi, con questa evoluzione del posing, il peso che viene dato al posing, nei prossimi anni come potrebbe evolversi? Perché abbiamo in mezzo la vecchia scuola, c'è stata l'evoluzione, ci sono stati i social che hanno portato tanti cambiamenti su quello che è l'immagine e la presentazione scenica. come potrebbe evolversi come potrebbe evolversi il posing nei prossimi anni o come potrebbe cambiare? Cosa si potrebbe migliorare nel posing per portare... è già cambiato tanto in questi anni, in questi ultimi anni, perché alcune federazioni addirittura hanno tolto la routine. Hanno tolto la routine che, secondo me, è una parte scenica della gara determinante, perché comunque era bello. C'è la parte del bodybuilder, adesso, poi dei classi, che facevano la routine con la musica e era una parte bella. molte federazioni l'hanno tolto proprio per la superficialità con la quale si preparava. Quindi, loro hanno detto preferiamo toglierle, risparmiare tempo e far sì che comunque gli atleti arrivino magari meno stanchi, perché ovviamente con 8, 5, 6, 8 routine perdergli molto più tempo, un minuto comunque ad atleta e l'hanno tolta perché veniva fatta tanto per fare. Secondo me ci sarà un ritorno al passato, nel senso che passerà diciamo come moda, torneranno a esserci gli atleti, quelli che comunque amano questo sport e non ci si dedicano due mesi all'anno, mettiamola così, ma tutto l'anno come facciamo noi e tornerà forse anche la percezione dello spettacolo in sé per sé, quindi qual è la routine, qual è la cura per il posing. Quando arriverà un altro sport che è già arrivato, non faccio nome perché tanto ormai è già arrivato, ruberà tanti atleti a questo bodybuilding che... Qual è l'altro sport? Paddle. Ma perché? Quale signora? È uno sport che è aperto a comunque tante età, raggruppa tanti ragazzi, quant'altro, ed è una cosa meravigliosa, è un po' più semplice, meno faticoso a livello di dieta e quant'altro, però secondo me molte persone che non erano fissate su queste cose qua ma si stanno spostando più su altri sport di moda. Tu dici rimarranno meno atleti perché sono veramente appassionati e quindi riporteranno quello che è il posing o le routine e quella che è la presentazione un po' vecchia scuola. Questo è un pensiero. considerale che una volta c'era addirittura il premio per il miglior potatore. Vero? Il torri. Cioè io ho fatto io sono andato esatto e sono andato a vedere alcuni due torri dove ragazzi cioè davvero era qualcosa di allucinante era veramente bello era scenico era uno spettacolo e te lo godevi tutto dall'inizio alla fine. Sì non c'era il momento di pausa la noia adesso quasi a noi a vedere che ci sono mille categorie mille atleti che comunque fanno doppia categoria perché alcuni addirittura alcuni fanno quattro categorie cioè potrai avere le caratteristiche fisiche per fare tutte e quattro le categorie no quindi il tuo preparatore ti dovrebbe dire o mi fai questa o mi fai quella non puoi fare veramente quattro categorie completamente diverse. C'è anche il preparatore che deve avere una coscienza e una conoscenza di quello che c'era e che non c'era anche quello si è perso tanto visto proprio che stavamo parlando appunto di categorie di impegno di tutti questi cambiamenti io so che tu hai anche fatto da organizzatore di di un evento di una gara e anche lì la mia curiosità è capire anche un po' qual è la sfida di creare o di organizzare una gara così perché ci sono tanti aspetti e molto spesso gli atleti stessi non sanno l'impegno o il lavoro che c'è dietro ci racconti qualcosa di come l'ha organizzato come è nata l'idea di organizzare una gara come l'hai portata allora tutto nacque da una federazione che comunque abbiamo o hanno portato qua in Italia che è la NAC che comunque il presidente mi voleva assolutamente all'interno dello staff e mi voleva assolutamente dedicare questa manifestazione a quello che comunque era il personale detto questo iniziamo a preparare con l'affiancamento suo perché ragazzi senza di lei non ci sarei mai riuscita a farla e vi assicuro che è stata un onore sentirmelo dire è stata una delle gare più registrata più difficile è stata una delle gare più difficili da preparare in assoluto uno perché eravamo completamente ignari di tutto quello che poteva esserci dietro dietro la preparazione di una gara c'è c'è tantissimo la location devi trovare la location giusta con le luci giuste deve esserci un palco abbastanza agevole sia per gli atleti che per lo staff perché comunque dietro ci deve essere il mixer o comunque quello che mette sulla musica eccetera quindi devi trovare il DJ che comunque segue e sa seguire una gara che non è facile anche questo perché comunque ogni volta lui deve mettere la musica di sottofondo e poi ogni volta che l'atleta ha una routine spezzare la musica di sottofondo mettere la musica dell'atleta e riprendere con la musica di sottofondo cioè parliamo di cose magari semplici per un DJ per me è alabo se mi metti davanti al mixer faccio scena muta quindi bisogna rintracciare il DJ bisogna rintracciare la location prendi accordi cambia gli accordi perché comunque c'era una manifestazione che la location aveva già prenotato per un'altra manifestazione che facevano loro che era la sagra del pesce non mi ricordo che l'abbiamo fatta pianoro quindi comunale il teatro era comunale e loro l'avevano già dedicato una parte a quella che era una loro manifestazione e abbiamo dovuto unire la gara alla manifestazione fortunatamente non c'è stata la manifestazione è stato l'anno dove ci sono state 16 esondazioni di fiumi 16 ragazzi è una cosa incredibile incredibile e nonostante tutto a maggio in piena alluvione siamo riusciti a fare la gara in piene frane perché comunque pianoro è stata una zona molto soggetta a quelle che comunque sono state le frane del terreno più che le sondazioni del fiumi perché comunque il terreno cedeva e sono franate un sacco di strade o comunque di colline limitrofe addirittura molte persone non riuscivano addirittura a spostarsi perché le strade erano chiuse quindi quello che comunque c'è stato oltre allo stress della preparazione c'è stato lo stress del clima e degli atleti che comunque chiamavano per confermare ogni giorno se c'era la gara non c'era la gara per fortuna è andato tutto bene perché comunque si è andato a tenere le piedi lo stesso sono arrivati tanti atleti da fuori e questo ci ha davvero riempito il cuore di gioia perché vedere comunque tanti atleti che nonostante tutto siano venuti lo stesso è stato impagabile in più la cosa dell'organizzazione del giorno della gara la difficoltà dove sta sta nel preparare i tempi ok quindi l'inizio della gara la presentazione la distribuzione dei premi magari alla Giulia a me a lei è ok e poi prendere e andare a preparare gli atleti perché ovviamente chi lo fa a chi lo dedichi quella parte lì che è determinante per chiamare chiamare gli atleti nel momento che non ci siano delle pause esatto una pausa troppo lunga fra una categoria e un'altra quindi comunque gli atleti che posavano gli altri atleti sotto al palco diciamo che sono tutte cose che magari da atleta non ci pensi quando sei tu a farlo è logico che se non hai una mente un po' organizzativa fai fatica e io sono passato un po' per l'h.p. quindi io ero quella che e poi riuscire a tenere i tempi per non avere periodi morti non è facile e quando comunque c'è il momento che ho visto sì ho visto tanti atleti lanciare nomi su nomi a chi veniva a fare le chiamate però addirittura l'atleta stesso non si fa trovare cioè io non posso da organizzatore o da quello che addirittura viene a chiamare l'atleta cercare l'atleta per tutto il backstage se io faccio una chiamata di una categoria al microfono tutti gli atleti devono arrivare lì ma alcuni atleti addirittura non sanno neanche il giorno della gara la categoria che vanno a fare dallo stress piano no il problema reale è che anche lì è sempre una questione di educazione bene o male si chiamano un po' prima gli atleti no quindi hai il tempo per prendere le tue quattro cose che devi prendere che possa essere una bottiglietta d'acqua agli elastici per scaldarti e quant'altro e avvicinarti verso comunque la seconda chiamata che ti porterà al palco il problema è lì nel senso che magari molti atleti arrivano all'ultimo proprio giù nel backstage perché non riescono a stare comunque in una situazione dove c'è tanta gente o comunque c'è anche quella voglia di essere io sono quello che ha già fatto quattro cinque gare ha vinto quindi arrivo con calma non è non è rispettoso anche nei confronti degli altri che comunque ti devono aspettare perché non possono fare una gara senza un atleta quindi logicamente le persone che sono dietro al backstage cominciano a chiamare a cercare magari la persona non è ancora arrivata quindi aspettiamo un attimo mettiamo un attimo più di musica diciamo che se facessimo tutti così sarebbero infinite le gare quindi la difficoltà anche per noi è stata magari quella di mantenere i gruppi degli atleti che dovevano salire sul palco però fondamentalmente diciamo non ce la siamo cavati male anche perché abbiamo avuto anche i complimenti di chi fa gare organizza gare da prima di noi che ci ha detto ma veramente è stata la vostra prima volta e ho detto sì è la prima volta ma bravi siete stati veramente bravi perché ho visto cose peggiori in federazioni che erano più organizzate di voi e noi eravamo veramente io e lui che abbiamo tirato su poi tutto sì perché c'è davvero tanto c'è l'aspetto dei braccialetti è una cosa ridicola però comunque c'è anche l'aspetto dei braccialetti cioè il braccialetto per l'atleta il braccialetto per l'accompagnatore il braccialetto per gli ospiti il bracciatore per lo staff cioè sono piccole cose sono piccoli dettagli che però ci devono essere dietro all'organizzazione di una gara i trofei le medaglie le maglie le maglie comunque cosa fai una manifestazione non dai un ricordo della manifestazione è brutto quindi organizza anche le maglie che arrivino in tempo è tutto il backstage sì che altro sono le persone esatto le persone che siano lì la sicurezza che comunque sai in quei momenti lì non si sa mai che cosa può capitare quindi magari uno è un po' stanco dalla gara è un uomone come lui se impazzisce un attimo tenerlo fermo ci vuole qualcuno di un po' sostanzioso ecco quindi insomma purtroppo ci sono anche questi aspetti da pensare perché uno dice non ci pensi però anche nelle gare che sono di guabba diciamo e degli ambibi c'è la sicurezza perché non si sa mai cioè magari l'atleta è talmente stressato è stanco magari è una cosa che non farebbe mai però alza la voce ha quello scatto d'ira che poi non fa niente però insomma magari una persona ci rimane un po' così ha paura che succeda qualcosa una cosa che abbiamo voluto fare per quello che riguarda la nostra gara è stato quello di renderla accessibile a tutti cioè abbiamo fatto pagare un biglietto fittizio di 5 euro ma perché volevo che ci fosse più gente possibile e ci fosse più pubblico possibile che si potesse godere lo spettato o addirittura non sapendo cosa andava a vedere potesse pagare una cifra irrisoria ma per andare a vedere qualcosa di nuovo che magari gli sarebbe piaciuto e che magari in futuro magari lui diventerà un atleta un ragazzo perché comunque se fai un biglietto a 30 40 50 euro il ragazzo non ci viene a vederla perché come se gli permette 50 euro per venire a vedere una gara dei due retti ne per una serata ma è giusto che sia così certo il problema è non il problema la cosa bella che abbiamo voluto fare è stata proprio questa cioè renderla accessibile a tutti abbiamo riempito il palazzetto è stato bellissimo quindi hai già parzialmente risposto cioè al giorno d'oggi vediamo diciamo federazioni dove hanno un grosso volume di atleti perché hanno lavorato tanto su quella che è l'immagine lavoriamo tanto con i social e con con il web ma realmente secondo te che cos'è che può essere una leva o come dovrebbe essere il bodybuilding come dovrebbe presentarsi il bodybuilding di là dei social perché attragga pubblico perché ci sia la gente che comunque lo segui ha passioni che venga a vedere le gare una tua visione se posso prendere la parola credo che purtroppo ad oggi ancora è uno sport un po' in cattiva luce nel senso che c'è poca informazione su questo sport prima di tutto perché uno dice vabbè vai in palestra per fare il bello punto e farti vedere spiaggia queste sono le cose classiche che si sentono da chi realmente non è così nel senso i social si giusto per far passare magari quello che dovrebbe essere il messaggio giusto del bodybuilding che non deve essere per forza essere estremizzato da tutto quello che c'è di negativo no i builder sono tutti ignoranti scusate se ti interrompo un esempio pratico di quello che sta dicendo lei poco tempo pochi giorni fa lei viene che cosa sono andate a fare sono andate a fare un'intervista a un soggetto e hanno fatto vedere solo l'aspetto negativo di questo sport anche la tv anche quello che comunque sono le informazioni che ci circondano sono completamente sbagliate e negative su questo sport e fanno vedere solo quell'aspetto lì è quella la cosa è la cosa sbagliata è proprio quella cioè è dalle basi che è sbagliato l'approccio che si ha verso questo mondo perché non può essere ancora nel 2024 scusatemi nel 2024 poi mi infermoro nel 2024 ancora che gli integratori tu vai dal dottore della mutua e il dottore si mette le mani nei capelli perché tu prendi la creatina ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando cioè non è concepibile nel 2024 che io vado dal dottore e questo non sappia che cos'è magari uno ZMA non sa che cos'è davvero sono cose che per me sono fuori dal mondo vabbè ripetisco secondo me purtroppo cominciare a parlare veramente di quello che è il bodybuilding di quello che comunque c'è dietro a questa passione quindi che prima di tutto non è uno sport che si fa in solitaria perché non è vero tu gli dicono ah no faccio uno sport dove ci sono solo io non è vero perché comunque si creano dei bei gruppi di amicizia all'interno della palestra perché magari fai sempre le stesse ore c'è l'amico l'amica io devo dire il team sì diciamo che è tutto una catena piccolina che si va a formare giorno dopo giorno e attacca un pezzettino e tuttora noi siamo partiti veramente giuro il nostro team quando abbiamo deciso di fondarlo che logicamente dietro ero io che rompevo le scatole come al solito e gli ho detto proviamo a farlo deve essere una cosa bella siamo partiti io e lui il nostro team eravamo io e lui dopo siamo arrivati a essere premiati come miglior team di Italia sì eravamo dai 30 abbiamo avuto 30 a 43 tutti in una volta ed eravamo due a gestirli sotto gara quindi c'è stato un anno a Rimini Wellness che ci siamo divertiti tra virgolette da matti però facevo alle palline rimbalzine con un atletico perché era tutto così io controllavo prima che arrivasse sul palco quindi obiettivamente un po' più di informazione vera e che quello che devo dire la verità vorremmo portare quest'anno anche noi sui social ma quella che è la vera realtà del bodybuilding quindi quello che è l'aspetto bello dietro a uno sport è come un altro anche perché purtroppo una cosa che davvero fa piangere da un lato è quanto serva a costruire il carattere magari di un ragazzo o di una ragazza con dei problemi possono essere elementari possono essere sociali possono essere fisici quanta sicurezza e quanta determinazione gli va a formare sia a livello caratteriale sia a livello di sicurezza la sua psicologica e questo aspetto qui non viene curato viene curato il problematico come prima che fa quello che fa e ovviamente cosa succede? il servizio viene fatto su quello ma perché? non su perché fa risonanza sì però anche la ragazza che cambia che magari prima aveva dei problemi alimentari e mi cambia e diventa quello che non ho mai sognato di diventare quello è su quello bisogna fare audience su quello bisogna puntare non sul problematico chiaro è chiaro sei stato molto educato sono stato molto pragmatico faccio fatica comunque condivido il discorso di fare una corretta informazione su quello che è il mondo delle gare il mondo del bodybuilding in generale a Prascivia che poi è quello che stai cercando di fare te Ale quello che io e Riccardo esatto la mia spalla il mio alter ego in tutto stiamo cercando un pochino di condividere visto che lavoriamo dentro sì lavoriamo all'interno del settore del fitness del bodybuilding quindi cerchiamo di dare un po' di informazione diversa diversa nel senso che cerchiamo un minimo di far trasparire anche quello che è l'aspetto umano le esperienze le cose che nessuno viene mai a raccontare perché altrimenti come hai detto tu prima un servizio visto sull'emittente nazionale fa credere tutt'altro da quello che è realmente il mondo perché poi il genitore il ragazzino che viene da me per prepararsi e magari gli do gli prescrivo delle proteine gli do delle proteine in polvere il genitore non sapendolo perché ignora la cosa perché la ignora completamente non sapendo la cosa è sempre informato su questa cosa ma paura giustamente per la salute del ciglio è giusto è normale però una cosa che guarda soltanto un piccolo appunto che ci tengo perché per noi è stata una cosa meravigliosa da fare appunto per dire l'informazione che stiamo anche noi cercando di fare nel nostro piccolo noi siamo stati prima di Natale a parlare alle classi a Bologna quindi a una scuola esatto nelle scuole di Bologna quindi con i ragazzi un pochino più giovani quindi ancora molto acerbi che purtroppo vediamo che sono molto distaccati da quello che può essere un agglomerato sociale quindi purtroppo perdono molto tempo su un gioco sul social sul telefono non c'è più la voglia di stare insieme al di fuori di uno schermo e siamo andati semplicemente a raccontargli la nostra storia e vedevi questi occhi che brillavano come per dire sembra assurdo ma dire c'è vita al di fuori di un cellulare sì c'è vita fuori di un cellulare se tu esci c'è un mondo che puoi scoprire e uno di questi poi abbiamo semplicemente spiegato che una passione può essere la palestra come per noi ma qualsiasi anche giocare a burraco può essere una passione che ti porta ad avere tante amicizie invece di scriverti semplicemente esatto col telefono esatto un'altra domanda che di solito tendiamo a fare un po' la cosa che mi hai fatto venire in mente che abbiamo già chiesto anche ad altri atleti e che comunque cercheremo di domandare un po' a tutti perché come abbiamo detto prima la disinformazione i social che propinano di tutto ci sono milioni di fonti che raccontano qualsiasi cosa ma realmente la gente deve vivere queste cose qui per per capirle e imparare voi che cosa avete imparato dal bodybuilding sia tu Matteo sia tu Adele com'è? allora diciamo che una cosa che intanto sottovalutano è quando i nonni ti dicevano io ho fatto la guerra e so cosa vuol dire la fame è brutto da dire ma impari cosa vuol dire le parole di persone che effettivamente hanno patito fame perché ci sono alcuni momenti pregara che effettivamente hai fame ma quella fame vera non la fame finta e questo è un insegnamento che fidati ti porti avanti capisci ad apprezzare quello che i minimi piatti che magari il valore del cibo magari con gli amici e la gente lascia lì la roba la roba è una cosa che no non va bene e anche questo sono sprechi social sono tante piccole cose che uno sport del genere ti insegna ad apprezzare ti insegna ad apprezzare la mano di un amico che magari sei stai facendo un esercizio con un carico pesante c'è quel tuo amico lì o quella tua amica lì che è lì con te e ti aiuta e ti incita quindi si creano dei legami di amicizia che sono talmente forti non c'è più il rapporto uomo donna c'è proprio il rapporto atleta quindi diventa una simbiosi che ti porta talmente a sentire effettivamente il bene che può volerti una persona senza nessun interesse perché tanto quando gli viene in tasca lo è di averte aiutato a tirar giù un peso niente però c'è quella complicità c'è quell'aiuto c'è quel voler stare insieme che effettivamente li lasci via i telefoni cioè io almeno io parlo per me personalmente non sono una di quelle persone che quando si fa quell'ora in mente a due ore di palestra sali a guardare i social delle due anche se voglio mettere la foto onestamente la posto che ho finito di fare quello che sto facendo nel mio allenamento perché è bello ridere insieme agli amici prendersi in giro è proprio diventa una cosa che da tanto tempo non vedevo negli occhi delle persone c'è la la semplicità di una cosa che è talmente bella ed è difficile anche descrivere che bisogna e sono persi scherzi assolutamente tutto lo sport cioè quando si dice quando sei veramente atleti non c'è sì c'è la rivalità sul palco perché tutti vogliono arrivare primi ma dietro alle quinte e guarda mi capita tutte le volte io sono di quelle persone che fagli in bocca al lupo a tutti vinca la migliore perché tanto è la migliore che vince ma non perché tu sei meno perché quella persona magari si è preparato un giorno in più di te meglio di te in quel momento ed è più bella di te ma è solo da battergli le mani però ha faticato come te ha fatto tanti sacrifici esattamente come hai fatto tu e c'è quella voglia di ragazzi dai spacchiamo tutto dietro ma ognuno può fare la sua gara però magari non ci conosciamo neanche quindi comunque sono sono cose belle da vivere tu invece Matteo tu cosa hai imparato? ti parlo di due aspetti sia quello da atleta da ragazzo comunque che è cresciuto col bodybuilding sia quello da preparatore ragazzo 13 anni che comunque ha iniziato ad allenarsi ovviamente sognava di arrivare sul palco perché comunque vedevo le riviste dirigendo Flex masculine fitness vedevi tutti bene o male i big dell'epoca e sognavi un giorno di arrivare sul palco o fai conto di essere come loro tra virgolette e riuscire a realizzare quel sogno lì è stato tanto c'è stato davvero un impegno enorme un cammino lunghissimo perché comunque sei in una fase di sviluppo sei in una fase di crescita sei in una fase ormonale completamente sballata dove gli ormoni vanno a mille e neanche tu sai cosa vuoi addirittura dalla vita quindi sai la strada la costruisci giorno dopo giorno mi hai insegnato quello che ti ho detto proprio adesso cioè a vivere giorno per giorno a programmare sì ma vivere davvero il presente succede una sfiga oggi la affrontiamo oggi e poi domani magari di nuovo col sorriso e si riparte da zero il fattore di affrontare diverse problematiche poi quando sono cresciuto ovviamente le problematiche sono cambiate sono diventate più difficili sono diventate ovviamente quello che è rispetto alla vita quotidiana ti aiuta ad affrontarle in maniera molto diversa e molto più razionale e questo davvero io devo dire grazie al bodybuilding devo dirgli grazie soprattutto per avermi portato via da strade sbagliate che magari da giovane avevo preso e grazie alla scelte che comunque ho fatto perché comunque dovevo dire di no a tantissime cose e mi hanno portato via da quelle amicizie che magari erano fittizie ok e ti insegna anche a valorizzare le persone come diceva Dele prima quella persona che viene lì e spende il suo tempo per darti un aiuto è una persona che non è così comune cioè nel senso non è all'ordine del giorno che tu possa avere una persona dietro che viene a darti una mano o una persona che se tu guardi la società di oggi se c'è un morto per terra la gente non lo caga neanche cioè gli passano di fianco e non non se lo cagano quella persona che viene gli e ti dà una mano perché magari ti vede in difficoltà o perché magari gliele hai chiesto tu e lei ti dice di sede e è contenta di darti una mano non è da sottovalutare come aspetto cioè davvero non è una cosa così facile al giorno d'oggi da avere questo ti parlo da ragazzo quello che comunque è cambiato da uomo dopo sicuramente che comunque io nascevo più come timido e poi sono diventato quello che sono diventato cioè parlo anche con i sassi e questo è la sicurezza di cui ti parlavo prima cioè il bodybuilding ti instaura una sicurezza una consapevolezza di te stesso completamente diversa da quella che avevi prima il percorso che si fa fino ad arrivare al giorno della gara davvero ti rende più coscienzioso e determinato verso alcuni aspetti della vita in generale se togliendo tutto quello del bodybuilding cioè capiamoci davvero sono due cose due aspetti completamente diversi il bodybuilding ti forma come persona per affrontare la vita è una cosa devastante ma perché comunque ti mette a dura prova tutti i giorni cioè tutti i giorni e dire di no a determinate cose che ci sbattono in faccia sui programmi televisivi sulle pubblicità in giro per strada cioè dappertutto si mangia roba fatta roba grassa roba sporca però tu devi essere forte e comunque dire di no a tutti i giorni e soprattutto lottare tutti i giorni contro amici familiari tutti quanti perché tutti ovviamente dopo un po' gli amici familiari gliela danno so ma addirittura io ho ragazzi esclusi da amicizie perché erano un peso perché dicevano sempre di no no più che altro è che non viene accettato il fatto che si mangi del riso o del pollo o magari una tagliata e gli altri si mangiano la pittura che tu non stai andando a ledere quella che è la loro libertà o la loro vita tu hai fatto solo una scelta per te senza andare magari nello specifico del cibo anche semplicemente il fatto che tanti passano più tempo in palestra che magari fuori in giro a fare altre attività certo quindi sono tutte cose che comunque l'impegno e la costanza servono il bodybuilding ti aiuta a sviluppare l'impegno e la costanza che dopo ti servono la vita per mille anni e l'aspetto da preparatore Ale era quello che riassumendo tutto quello che ti ho detto adesso da ragazzo atleta che comunque è passato negli anni è proprio quello di riuscire quando vedi una persona in difficoltà quando vedi un ragazzo in difficoltà una ragazza in difficoltà trasmettergli quello che hai provato tu quando sei riuscito tra virgolette a fare un cambiamento radicale di quello che comunque erano vari aspetti difficili che magari hai affrontato prima altra domandona che facciamo un po' come routine con i vari ospiti un personaggio a cui ti sei ispirato in particolare sia tu che anche Adele me il giochi facile ce l'ho in testa no come atleta no come atleta ah come atleta ok ok preciso al di là del personaggio che adesso ti porti appresso come immagine ma certo prima di questo a chi ti sei ispirato quando hai iniziato nel corso degli anni considera che io quando avevo iniziato avevo 13 anni quindi c'erano ancora i bodybuilder di una volta se tu guardi quanto sono cambiati negli anni i bodybuilder e il freak del bodybuilding è veramente un'altra scuola cioè adesso volendo senza entrare nei particolari una volta c'era molta più ghisa una volta c'era molta più ignoranza una volta c'era molta più devi tirare su del carico per fare la muscolatura per sfibrare il muscolo per andare a dargli quella durezza quell'impatto quella plasticità che si portava sul parco una volta ma Coleman Cutler Gunther Gierkamp Marco Schrull hai due da meno ho detto ecco uno che magari non viene preso molto in considerazione ma che ha calcato l'Olympia per vent'anni di fila Dexter Jackson che ovviamente gli è soprannominato The Blade ha calcato il palco dell'Olympia per vent'anni cioè per vent'anni di fila lui si è preparato e ha fatto per vent'anni di fila l'Olympia ma non è roba da poco perché soprattutto vuol dire che ha fatto le cose fatte dal verso giusto capiamoci tra le righe è riuscito a portare una preparazione perfetta tutti gli anni amore invece allora io realmente ho due atlete quando ho proprio cominciato sono due IFBB americane e due bikini una il cognome è impronunciabile il nome è Jeannette e l'altra non riesco mai a dirlo il cognome di Jeannette che ha vinto all'Olympia la Pro Card cosa è stato ormai ha vinto proprio l'Olympia sì no vabbè Pro Card l'Olympia ha vinto tutto lei quindi e l'altra è Luis che sono diciamo che tutte e due lei non è proprio una bikini è una borderline perché è molto molto grossa come gamba quindi è più fitness però ha un corpo lei nasce come obesa proprio lei si è messa in testa ha fatto questo percorso molto molto intenso e mi ha proprio stupito la sua determinazione perché lei ha detto io voglio diventare come loro e c'è riuscita e effettivamente è stato un po' un esempio per me dire se vuoi comunque puoi farlo ultimissima domanda un brano musicale che vi portate o in gara nel pre-gara per darvi la carica diciamo che purtroppo io vivo costantemente 24 ore su 24 con la musica alle orecchie detta come va detta sì io ascolto tutto e veramente ascolto tutto il panorama una canzone che mi è rimasta molto nel cuore dopo che abbiamo fatto la gara e abbiamo vinto la gara di coppia io e lui è proprio una canzone di Aquaman che ha un significato particolare ma mi dà quella forza di dire ho fatto una gara di coppia con pose che non erano nelle mie perché erano da shape l'ho vinta se sono riuscita a fare quella posso andare posso andarci proprio non convinta di più e quindi quella mi dà una bella carica sì sì tanto io invece sono un po' più ignorante in ambito musicale e quindi diciamo che io sono proprio grezzo nel cuore e devo essere concentrato dentro di me cioè non ho una routine non ho una musica determinante che anzi proprio io più chiacchiero durante il pre-gara meglio è perché mi aiuta a smaltire bene o male quella che è la tensione quando arriva il momento del pre-palco di fianco a me voglio lei e basta non voglio nessun altro perché lei sa comunque quello che voglio in quel momento lì cioè silenzio concentrazione caldiamoci salgo sul palco finita la gara fine questo è un fattore poi sul palco rido e scherzo con gli atleti lì che ci sono perché mi piace e sono così io però prima di salire sul palco bisogna un attimino di silenzio e di concentrarmi dentro di me se ci concentriamo l'un l'altro insieme cioè nel senso se gareggio io ho bisogno di lui non voglio nessun altro vicino a me in quel momento prima del palco perché è comunque lui che mi mette la sicurezza mi voglio scaldare con lui è una sorta di chiamo sempre la copertina di Linus e quindi è quella è quella forza che mi dà involontariamente con una carezza una parola ma sa quali sono le carezze e le parole che voglio in quel momento cioè non voglio la coccola voglio una persona che mi dia quella sicurezza per essere sì sì esatto e che poi è l'aspetto poi da preparatori che facciamo esatto in modo tale in modo giusto per poterlo aiutare esatto perché ovviamente ognuno è fatto a modo suo e quindi non è che puoi essere standardizzato e comportarli con tutti allo stesso modo ma ognuno ha bisogno della sua concentrazione del suo essere motivato che è varia infatti è una cosa che è una cosa che noi poi mi zittisco una cosa che ci piace fare è accompagnare tutti gli atleti a tutte le gare non ci piace lasciarli andare a meno che proprio non abbiamo due gare nello stesso momento e una magari all'estero quindi non riusciamo a seguire due due ma non li seguiamo fisicamente ma siamo costantemente collegati non ci piace lasciare andare gli atleti da soli perché credo che in quel momento lì loro abbiano effettivamente bisogno della persona che ti ha portato a fare quella scena quel palco lì quindi è bello per noi vederli lì sul palco e probabilmente per loro vederci che siamo lì per loro direi che comunque abbiamo fatto una carrellata di tanti aspetti e voglio ringraziarvi ulteriormente della disponibilità perché comunque ma no grazie a voi noi cerchiamo appunto di fare solo un po' di divulgazione non e la vostra disponibilità è più che apprezzata per la vostra esperienza per il vostro per le vostre informazioni che vi abbiamo per modo di dire tra virgolette rubato per poter comunque dare degli quando volete agli atleti che veterani o membri che siano dico sempre così uno che si avvicina per le prime volte ha bisogno di sentire cose come quelle che avete detto voi ma anche un esperto a volte non conosce tutti gli aspetti e quindi magari può migliorare un po' il suo routine il suo modo di prepararsi e via dicendo e facendo tutte queste cose qui magari riusciamo a dare un po' di visibilità e creare un po' di building migliore per tutti dai diciamo così grazie bene ragazzi grazie a tutti adesso ringrazio di nuovo voi e ringrazio tutti gli ascoltatori che comunque ci hanno seguito sulla diretta e che nei prossimi giorni poi non sarà uscita l'episodio ma spero di rivedervi presto non mancheranno anche se assolutamente se lo volete buona serata a tutti e grazie per essere stati con tutti ciao ciao